La rima in questo caso, quella di oggi, del Rap Game è questa qua. Concentrati, tanto so che sei molto preparato. Anche qui 2015, quei modi di fare a nobilitare ogni tuo comportamento, che sono le 6 di mattina, ma è di mattina che soffre il vento. Io sono qui a scrivere ancora, a ridere ancora di me, mentre un raggio di sole ti sfiora con le lenzuola appoggiata sul ventre. Purtroppo io nel 2015 non ho ascoltato praticamente nulla, perché dovendo fare il disco mi sono isolato da quello che era il rap italiano. Però, le lenzuola appoggiata sul ventre, cioè molto... quei modi di fare a nobilitare ogni tuo comportamento. Siamo su un linguaggio molto facile. Direi televisivo. Direi amici di Mario Filippi. Direi briga. Hai presente il personaggio? Ma è un rapper? Di quello che sia la parte rap di amici. Anzi, questa è una bella domanda. Ma briga, è un rapper? Ma guarda, io non ho nessun tipo di discriminazione, nel senso che ognuno si sente artista a modo suo e può fare quello che vuole, perché il bello dell'arte è proprio che è libertà. Dico solo che, secondo me, un rapper non dovrebbe aver bisogno di un talent per emergere. Cioè, neanche di un talent, di un programma come Amici, diciamo la verità. Perché lì viene premiato un tipo di rap che è più legato all'italietta. Alla parte provinciale dell'Italia. Sì, sì, esattamente. Però, boh, c'è nel senso Big Up a briga che sta facendo gli affari suoi, sta spaccando benissimo per lui. Cioè, nel senso, voglio solo che la gente capisca che briga è una cosa e io sono un'altra cosa. Ah, vabbè, anche Ed Sheeran è un'altra cosa, ci sono i tre mondi diversi. Ma briga è un rapper è la domanda che però lanciamo a chi ci segue sui social, così poi ce lo diranno in un altro momento. Ti faccio leggere un tweet e te lo faccio commentare. Qui c'è un tweet e anche un commento dello stesso autore. Leggiamola ad altavoce in camera con un commento in tempo reale. Sotto un post di Nitro ho appena letto uno che dava della capra a Jamie Tights e come fotoprofilo c'era lui con Low Low. Morale, se ascoltate Low Low non avete il diritto di offendere nessun altro rapper. Spacca pure l'iPad se vuoi. Cosa significa questa qua, innanzitutto? Significa che siete molto tristi e non avete nient'altro da fare che paragonare i rapper come se fossero calciatori. Smettetela. La musica è arte, è competizione soprattutto il rap, però è soprattutto arte. Non me ne frega una minchia se X è meglio di Y. Se X è meglio di Y, però Y fa una canzone bella e glielo devi riconoscere. Punto. Smettila di vivertela così male, cazzo. Che comunque è già tanto che ci sia così tanta musica e così tanta gente che si impegna a fare quello che fa. Basta. Se no, se sei il più bravo te, mettiti in gioco. Devo dire che questo disco l'ho fatto totalmente come volevo io, senza avere nessun tipo di pressioni né da Sony né da Macete. Mi sono chiuso in camera e dicevo ragazzi ho scritto questo, vi piace? Mi hanno detto di sì, quindi non ho avuto nessun tipo di compromesso e sono contento di riuscire a portare a una distribuzione nazionale e a una major un suono così comunque duro. Cioè non è che mi sono fatto problemi a... Non c'è un compromesso? No, assolutamente. Non c'è il ritornello? Ma se c'è perché lo volevo fare, molto semplicemente. Penso che parlare di musica sia come ballare di architettura, come diceva Frank Zappa. Che salutiamo. Quindi delle recensioni... Ciao, me ne batto altamente il cazzo. Comunque sia, alla fine è il popolo che sceglie chi è l'artista o addirittura gli addetti ai lavori. Per me ricevere un complimento da un Lord Bean come un danno del Colle del Fomento, come un Marrakesh, come un Fabri Fibra vale molto di più di 200 ragazzini che ti dicono minchia sei un mostro, perché quello può anche essere una questione di moda, mentre la gente che se ne intende e che ti dice che sei bravo è una soddisfazione migliore, specialmente se hai gente che ascolti da quando sei piccolo. Bravo! 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 Voglio fare il canzioniero di aria! Proca Santana! Proca Santana! Proca Santana! Piano, non vuoi sentire un po' gli ampi che la voce è fatta come si vede? Non vuoi sentire solo? Vedete i scappi? Fai bravo, bravo, tu puzzle, bravo, io travo, travo. Era un'ossimo mangiasto, bravo, con lei il suo ego. Travo, travo, l'ho abbandonato, ma questo è lo di voi. Lo sta tocando che per faccio di voi. Non dite niente, date il meglio di voi. E se dire niente fate il meglio di voi! Voglio un canzioniero aria sinistra! 1, 2, 3! 2, 3! 1, 3! Faccio lessica, meglio che vengo nella settica La coltetta è d'info, ma perdi Trump, lui Jackie, Gianco, Gianni, Scott Sono raccettivo, ma presto, sono positivo, sono la testa Da quattro c'è dei signori, mi cuore un ragazzino da Pettin, sono bambino con i ragazzi Tuo sei, io stacke come stacke assorzate Bacchessi le spalle rossate, stacchetti, credo e fessate Vai un casino della platea, uno, due, tre E tu, fatti bene, vedi a Cacchi venia Quando fiofono i miei banchi storia, mi batti con la tua cantiglia Sei da miseria, mi miseria Abra, posta, mi sei mica dato che gli vanno la risposta E sarà una valuta così grossa, che la c'è tecino da un'altra vita, mi viene da Apri pista, nasso dieci, vagoni, sei un'aprendista Raghi e pesna, l'edatista, Piero Mazzoni Se venisco, fosso, copie, vivi, come, vulnerare Mi condisco, faccio, copie, sempre sulle scuole, tale Ecco, un cancino da più, un percorso, uno, due, tre Se me se che che mi scelte ha fatto Red Go, Red Go Vuole fare più del rego e sessi Red Go, Red Go Non volevo più giocare, ho fatto Red Go, Red Go Perché sono il fede, dico, entro di Red Go, che sc顧 Vada come vada, vengono l'interità, vada, la pocagna, vada, vada, la schiava di Vipaga Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!